e anche questa sera adonai padre madre da il meglio di sé e mentre si tuffa nel mare è splendente più grande che mai la sua frequenza è cambiata siamo nella frequenza magenta quell'oro rosa che sfocia in un magenta di quinta dimensione per quale motivo la sua frequenza è cambiata perché questo è un dono per il pianeta e ci prepara alla nuova terra infatti stiamo assistendo a un evento più unico che raro un evento per il quale ci siamo incarnati tutti in questo preciso momento storico e questo evento è la discesa dello spirito santo se vogliamo utilizzare il nostro linguaggio di background cristiano o meglio potremmo dire soffia che scende sul pianeta o il fuoco sacro il battesimo di fuoco il battesimo solare questo sta avvenendo sul nostro pianeta ora il sole sta dando il meglio di sé e sta tra virgolette battezzando tutta la creazione dal mondo vegetale il mondo minerale il mondo animale e gli esseri umani e tutti stiamo ricevendo la sua nuova frequenza e chi usa l'occhio spirituale il terzo occhio il quarto occhio può vedere nel sole distintamente la palla bianca perché non è più giallo di quinta dimensione e il colore della sua frequenza rosa magenta e all'interno il simbolo dei solari la h con la stanghetta in mezzo quel simbolo è visibile al centro del sole con codici nuovi che vanno ad informare direttamente il nostro dna preparandoci all'ascensione cellulare ma questa è un'altra storia godetevi il sole in questi giorni e anche se non lo vedete splendere nel cielo connettetevi a lui attraverso il vostro plesso solare perché vi raggiungerà con la sua frequenza magenta inondandovi di nuova luce di nuove informazioni per l'ascensione e per la modifica cellulare affinché siate pronti siamo pronti per la nuova terra e così sia e così è amen ciao padre madre donai a domani grazie per questo spettacolo gratuito meraviglioso infinito che mi concedi ogni sera semplicemente anche qui dal balcone di casa con lo sfondo delle isole olie meravigliose infatti ci sono le olie quale possiamo vedere e lo stromboli più bello che mai vi dedico questo spettacolo e vi dico fratelli sorelle della luce delle stelle della terra preparatevi perché il battesimo di fuoco è in atto e il fuoco sacro sta scendendo sul pianeta e così sia e così è e così sarà amen e oggi è il 4 novembre 2023 preparatevi per questo mese di novembre perché le energie sono potenti e preparatevi per il portale 11 11 ma dedicherò a questo argomento il giusto spazio a questo argomento il giusto spazio